Come state ben ritrovati, un saluto a tutti, un aggiornamento di serata, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella se lo avete ancora fatto. Allora intanto il Milan futuro perde 1-0, altro risultato negativo, avremo poi un focus su Milanello dal nostro inviato che non si perde una partita dal campo. Però volevo commentare anche le ultime ovviamente per quanto riguarda il Milan prima squadra, purtroppo tre infortuni, Calabria sapevamo già da ieri, problema al polpaccio, starà fuori secondo me alla fine un mesetto, avrebbe giocato, se fosse stato bene avrebbe giocato lui e non Emerson Royal, è una perdita che comunque secondo me è significativa proprio perché da quella parte c'è un giocatore che non sta facendo bene. Jovic fuori, su questo si possono fare drammi, però attenzione perché il Milan giocando con le due punte ha bisogno di una punta alternativa e in questo momento non c'è, tant'è che viene promosso in prima squadra Camarda che sarà appunto in panchina domani contro la Fiorentina, squadra con cui appunto scese in campo, ricordo l'età San Siro, la famosa spallata di Milenkovic a Camarda che rotolò insomma per evidenziare la differenza difficile. L'infortunio ulteriore è quello di Loftus-Cicca e lì ragazzi c'è ancora Zeroli in prima squadra, lì fortunatamente c'è la sosta, un sovraccarico al flessore, il problema è che però la coperta non era corta di più perché avevamo quattro giocatori, quattro giocatori per il centrocampo, ora sono tre giocatori, Ayrenders-Fofana scelta obbligata, poi Musa che deve crescere. Vedete che appena ne manca uno sei in emergenza di fatto clamorosa, è un gioco a incastro, è una rosa questa che deve essere sicuramente integrata e migliorata a gennaio. Poi spero che non sia l'inizio di qualcosa perché nel giro di due giorni, tre infortuni, di fatto tutti e tre muscolari, dopo la stagione dello scorso anno siamo rimasti molto scottati e non vorremmo ovviamente che ci sia un inizio di un nuovo trend. Comunque no good news in questo caso, però domani bisogna vincere senza se senza mai, importantissima per tantissimi motivi. Che ne pensate? Commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, attivate la campanella e buona continuazione, mi raccomando, un abbraccio.